signori bentornati ad un altro fantastico video oggi vado a mostrarvi uno stupendo attacco fatto da uno dei top player della evolute il grande fanto mamma mia signori un attacco davvero da vedere rivedere spero che questo attacco vi possa piacere ma soprattutto spero che questi contenuti vi possano piacere quindi se è così se è così ragazzi mi raccomando iscrivetevi mettete un like perché solo così che riesco a capire se davvero davvero queste cose vi piacciono io vi lascio alla clip fatta ieri sera in live dove il caro fanto ha dato manforte contro gli mng pk tr una war giocata sul lama del rasoio fino alla fine e solo con l'ultimo attacco la evolute è riuscita a portarsi a casa la war che dire ragazzi io spero che lo spettacolo vi piaccia tanta roba ci vediamo tutti i giorni in live su twitch io vi aspetto nel frattempo guardate questo bello attacco guardate soprattutto se avete voglia alla fine commentate giovani un saluto dal g5478 ci vediamo alla prossima ciao belli ragazzi tanta roba stiamo vedendo davvero degli attacchi bellissimi stiamo vedendo degli attacchi bellissimi e parte il grande fanto parte il grande fanto abbiamo per lui una suicide mamma mia fa subito ad abbattere il necessario per far arrivare il blimp fin vicino alla queen e scattershot blizzard wizard bomb che adesso inizierà a massacrare tutto il settore ad ore tre mamma mia rimane superstite solo un super marco che cercherà di dare quanto più hit possibili a quello mastino e ce la fa ragazzi riesce non solo ad aprire un bel barco verso la verso la concentra verso l'artiglieria aquila ma abbatte anche le difese del castello adesso con la suicide heroes potrà procedere in piena tranquillità fin sotto town hall vediamo dove arriverà l'attacco del pro defanto ragazzi quanto siamo in live quanti che siamo in live basti paolo holy the brave saluta bella l'entrata della suicide su town hall bella l'entrata della suicide su town hall va a terra in questo momento il town hall ha ancora a disposizione un golem mais e parte da ore 6 con la track rider verso quale inferno va arriva fin sotto lo scattershot signori ci siamo signori forse ci siamo mi preoccupano però tantissimo quello è inferno mi preoccupano tantissimo quello è inferno dai fanto dai fanto porta a tris per il tuo team dai fanto facci sognare dai fanto facci sognare 30 secondi alla fine ragazzi 30 secondi alla fine ed è triste ed è triste ed è triste ed è triste per la evolute grazie al pro defanto mamma mia tutto per te arrivare caccia nuclearizzato boom baby bella fanto bellissimo attacco bellissimo attacco